Ciao a tutti cari amici, buonasera, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, siamo qui con il nostro solito appuntamento serale con la canalizzazione del pensiero. Io ho tirato fuori questi due testimonial che mi andranno ad indicare le due varianti. Allora, la variante 1 con il simbolino viola e la variante 2 con quello verde. Io vi ricordo, mentre scegliete come sempre di farlo ad istinto, lo so che sono ripetitiva, ma ci sono magari persone che approdano in questi tipi di video per la prima volta e quindi magari non sanno come funziona. Sono sales generali, sono video dedicati a scopo di intrattenimento perché non possono sostituire in alcun modo un consulto privato. Questo perché non riguarda nello specifico voi, ma più persone. Siete tanti, sono tante le situazioni, i rapporti variano e quindi di conseguenza sono stese che non possono risuonare in tutto e per tutto. Ma può esserci a volte anche semplicemente un messaggio che può aiutarvi a risolvere dei problemi, delle difficoltà vostre, personali o difficoltà che riguardano il rapporto che vivete. Allora, io andrei subito con la variante viola. Se non vi è bastato il tempo per scegliere, stoppate il video e fatelo con tutta calma e serenità. Allora, vado subito a stendere i nostri oracoli per la variante numero 1 e andiamo a vedere che cosa ci dicono le carte. Allora, diciamo che in questa stesa o in questa situazione, la situazione di partenza, il rapporto di partenza attualmente è un po' in crisi. Qui abbiamo la carta della gelosia, quindi vuol dire che all'interno della vostra relazione, vostra o anche semplicemente della persona per cui chiedete, ci sono dei problemi, delle difficoltà. Non escludo per alcuni di voi che ci sia una terza persona, quindi si parli di un triangolo, addirittura di un quadrato, e ci sono gelosie, ci sono litigi, ci sono incomprensioni. Potrebbe essere con voi, quindi naturalmente se è con voi state litigando, o c'è un malessere generale, magari non è proprio manifesto, però c'è un stato di crisi. Potrebbe esserci un allontanamento, quindi c'è un distacco e questa persona o voi siete gelose l'uno dell'altra, perché pensate che ci sia un'altra persona e se siete gelose di quest'altra persona, insomma fatto sta che le cose non vanno proprio a meraviglia. Cos'è che emerge dalla stesa? A cosa sta pensando questa persona? Cosa sente? Allora innanzitutto abbiamo una carta che mi parla di rinascita, di qualcosa di nuovo. Quindi qui abbiamo una persona che desidera ardentemente un nuovo rapporto, una nuova relazione, una nuova vita. Questa persona vuole rinascere, vuole riuscire a vivere la vita in modo sereno, in modo ingenuo, rilassato, senza preoccupazioni, proprio come un bambino, no? Rivivere un rapporto come se fosse la prima volta, quindi con purezza. Questo è quello a cui aspira questa persona. È un uomo che si sente in questo momento fallito, quindi qualcosa nella sua vita non è andato come doveva. Allora potrebbe essere il rapporto con voi, potrebbe essere anche una questione lavorativa. Qui parliamo di un contratto. Quindi c'è un accordo, si potrebbe trattare di un lavoro che non è andato a buon fine, un contratto, non so, di una vendita di un immobile. Però attenzione perché contratto è di fatto anche un matrimonio. Quindi se questa persona è sposata e ha effettivamente un contratto, diciamo, con un'altra persona, probabilmente sente che questo rapporto è giunto al termine, è proprio fallito. Anzi, si sente fallito per non essere riuscito a portare avanti questa situazione. Questo in vari ambiti. Naturalmente poi lo saprete voi perché la situazione sarà diversa per ognuno di voi. Quindi questa persona vorrebbe trovare un nuovo stimolo sostanzialmente, vorrebbe in qualche modo lasciarsi alle spalle questo senso di fallimento e ricominciare. C'è il desiderio di contattarvi, di mettersi in contatto con voi, di parlarvi anche di questo. Probabilmente per alcuni di voi vorrebbe anche proprio esprimere il proprio stato emotivo. Qui naturalmente io quando parlo mi riferisco a delle energie. E quindi sono energie che potrebbero riguardare voi o potrebbero riguardare un'altra persona o la vita di quest'uomo, di questa donna. Quindi dovete un attimo cercare di capire in base a come voi conoscete la persona, al rapporto che avete, se si tratta di voi e di chi si sta parlando. Perché io naturalmente non posso saperlo, nel senso che siete tantissimi e non è un consulto privato, quindi non posso parlare di voi nello specifico. Qua quello che emerge è che questa persona vuole mettersi in contatto, vuole comunicare, però vedo che tende un po', ha un po' paura di farlo. Questa persona sta cercando anche di proteggersi. Potrebbe aver paura di soffrire, potrebbe avere il timore anche di ritornare a provare questo senso di fallimento, di incapacità. Andiamo a vedere cosa altro aggiungono gli oracoli del vorrei dirti che. Allora, ti prego, aspettami. Mi sto innamorando di te. Sei importante per me. Sono io quello giusto per te e poi ho bisogno di tempo. Vediamo sul fondo, mazzo. Voglio ricominciare con te. Eccola qui. Guardate, la carta della rinascita è Voglio ricominciare con te. Quindi proprio la stesa avverte su questo desiderio, questo pensiero di riaprire qualcosa di nuovo. Potrebbe essere una storia vecchia che riparte, ma potrebbe essere anche una nuova situazione. Ti prego, aspettami. Quindi questa persona deve risolvere delle questioni personali. Forse questa situazione contrattuale che deve essere che è finita, forse non è ancora completamente chiusa. È una persona che si sta innamorando, anzi lo è già, perché se vuole ricominciare con voi vuol dire che comunque è attratto, vi desidera, vi ama. Qui dice probabilmente che è geloso. Potrebbe essere lui, potreste essere voi, però per alcuni di voi questo allontanamento che state subendo entrambi gli crea molta gelosia, probabilmente ha paura che troviate qualcun altro. Dice, sei importante per me, sono io quello giusto per te. Quindi questa persona pensa proprio intensamente che voi siate la donna, l'uomo giusto che possiate dargli quello di cui ha bisogno e viceversa. Dice, ho bisogno di tempo. Quindi questa persona ha proprio la necessità di risolvere delle questioni personali. Andiamo a vedere i messaggi motivazionali che ho messo qui. Vediamo che cosa emerge qua. Tiro fuori i due. Allora, vediamo. Apro nuove porte alla vita. Confido che la mia guida interiore mi stia indirizzando nel modo migliore per me. La mia crescita spirituale è in continua espansione. Quindi qui, lavorate su voi stesse. Sono sempre al sicuro. Lascio andare l'attaccamento emotivo alle convinzioni del passato così che non mi feriscano più nel presente. Sono al sicuro. Quindi qui le carte vi stanno invitando a lavorare su voi stesse per ciò che riguarda l'attaccamento. Potreste avere delle difficoltà a superare delle ferite che vi sono state inferte in passato da anche genitori o altre relazioni. Qua si ha la tendenza di cadere nei soliti pensieri. Cioè se siete state lasciate da un'altra persona e vi ha ferito e vedete questo comportamento di allontanamento di questo uomo, di questa donna il primo pensiero va a ecco, adesso anche questa persona si comporterà in questo modo. Quindi cercate di guarire questa cosa cioè di stare serene quale carte vi dicono siete al sicuro. Andiamo a vedere un consiglio per voi. Sono uscite troppe carte. Un consiglio per voi. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Allora, qual è il consiglio? Beh, qua parla di religiosità ma riguarda più che altro l'aspetto dell'educazione cioè i principi, diciamo. Quindi le carte, qua secondo me vi vogliono consigliare di sentirvi al sicuro rispetto al fatto che la persona che avete di fronte o voi avete delle convinzioni dei principi molto saldi, molto solidi quindi probabilmente il fatto di stare al sicuro è effettivamente così cioè questa persona ha delle intenzioni serie perché qui vedo un'educazione molto rigida ai legami familiari, alla vita sentimentale a proprio come ci si deve comportare quindi qui probabilmente per alcuni di voi il consiglio è proprio quello di seguire il rispetto delle regole ecco, il rispetto delle regole o accettare e rispettare il comportamento dell'altra persona perché è una persona giusta andiamo un po' a vedere i segni dodi accali per la variante 1 ops, questo è proprio partito i gemelli il segno del toro lo scorpione andiamo a prendere un'altra 2 1 la vergine e i pesci quindi abbiamo i gemelli il toro lo scorpione i pesci è il segno della vergine va bene variante viola io come al solito vi ringrazio tantissimo perché vedo che siete sempre più numerosi e che siete estremamente affettuosi e dolci io vi invito a commentare ditemi se le stese risuonano con voi raccontatemi le vostre storie mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico ma anche potete partecipare ai sondaggi in community e quant'altro io vi mando un abbraccione grossissimo come sempre vi auguro una buona serata buonanotte a tutti allora vado a togliere le carte e poi passo subito alla variante numero 2 allora variante numero 2 quindi per coloro che hanno scelto il simbolino verde che mettiamo qui allora ben trovati anche coloro che hanno scelto la variante numero 2 andiamo a stendere le carte vediamo la vostra persona cosa sente cosa prova che cosa vi vorrebbe dire andiamo un po' a stendere gli oracoli per la variante 2 allora allora nel fondo mazzo abbiamo la carta che mi parla di protezione quindi in questo momento diciamo che le cose tra di voi non sono proprio trasparenti ci sono delle difficoltà potreste vedere l'altra persona magari ritirarsi quindi potrebbe esserci un allontanamento emotivo anche direi più emotivo che fisico dovuto al fatto che questa persona sente il bisogno di proteggersi proteggersi da cosa poi naturalmente dovete saperlo voi perché questi sono interattivi quindi io vedo delle energie estremamente generali e non vado neanche ad approfondire perché siete davvero tantissimi per fortuna potrebbe essere anche un atteggiamento vostro quindi una sorta di tenere la guardia alta perché probabilmente avete paura che questa persona vi ferisca non capite bene il comportamento cosa vuole come si comporterà con voi quindi queste sono diciamo le energie che riguardano il vostro rapporto ora potrebbe essere un comportamento vostro potrebbe essere un comportamento dell'altra persona un'altra cosa che emerge da questa carta è un senso di protezione riguardante qualcosa della vita di questa persona cioè magari questa persona vi ha allontanato perché qua emerge l'allontanamento ma vi ha allontanato o per proteggere voi da qualcuno o da una determinata situazione o per proteggere se stesso dico questo perché le carte mi parlano di una gioia di una felicità di qualcosa che era nato che poi è stato è finito è finito questa carta spesso è riferita al matrimonio che viene vista come felicità come gioia ora potrebbe riguardare il vostro rapporto che è già chiuso o potrebbe essere e potrebbe riguardare una relazione ufficiale quindi una felicità una situazione in cui questa persona ha costruito a cui pensa molto e che improvvisamente o anche nel corso degli anni del tempo è andata a chiudersi per alcuni di voi qui si potrebbe trattare anche di una morte prematura di uno dei due partner perché qua mi esce anche comunque la carta dell'eredità che mi parla di una fine di un cambiamento però potrebbe esserci anche appunto l'eredità quindi una persona che ha lasciato un lascito nonostante la gioia la felicità sia effettivamente finita in qualche modo rimane chiamiamolo la parte economica finanziaria la ricchezza materiale quindi potrebbe riguardare una casa potrebbe riguardare dei soldi questo naturalmente lo dico ma sarebbe probabilmente per molti pochi di voi che hanno questa situazione specifica però in linea di massima qui mi parla di una relazione che è finita e quindi questa persona sta riflettendo su questo matrimonio su cui ha investito tanto e che l'ha reso felice per un lungo periodo di tempo che è andato in qualche modo si è disgregato si è rovinato la carta al centro della stesa mi parla di un ritorno quindi secondo me qui per alcuni di voi si tratta o di una persona con cui avete già avuto una relazione per alcuni potrebbe essere addirittura un ex quindi c'è l'ex marito la persona con cui effettivamente avete chiuso questa persona potrebbe anche essere pentita di una chiusura che ha già c'è già stata se voi appunto vi riconoscete in questa situazione e probabilmente vorrebbe ritornare vorrebbe tornare da voi vorrebbe incontrarvi comunicare con voi vorrebbe chiedervi proprio un incontro però vedo qui che ha le difese alte sente di doversi proteggere sente di non riuscire non poter fare effettivamente questa mossa in modo rilassato questo se avete già avuto un rapporto una relazione con questa persona se invece siete l'altra donna e quest'uomo ha una relazione ufficiale è una persona che pensa a una chiusura che c'è già stata una chiusura che vuole effettivamente mettere in atto perché desidera tornare da voi c'è un allontanamento c'è un distacco per alcuni di voi siete voi che vi siete protette e quindi avete alzato le difese per non soffrire nuovamente però qua vedo che questa persona vuole ritornare vuole incontrarvi e parlare con voi allora andiamo a vedere i messaggi motivazionali per voi andiamo a estrarre due carte come nella variante 1 vediamo che cosa vi consigliano che cosa su cosa dovete lavorare per riequilibrare le vostre energie vi ricordo sempre che è indispensabile che voi viviate con energie positive mantenate le energie le vibrazioni alte affinché le cose nella vita vadano come volete come è giusto per voi allora qui abbiamo sono una persona amorevole piena di gioia lascio andare tutti i pensieri e le vibrazioni che esprimono confusione caos disarmonia mancanza di rispetto o di fiducia vengono completamente eliminati dalla mia consapevolezza quindi qui proprio le carte vi invitano a riequilibrarvi se siete in confusione se siete in ansia per il comportamento per l'allontanamento che avete messo in atto tranquillizzatevi poi abbiamo qui sono in armonia con la natura sono in armonia con tutta la vita il sole la luna il vento la pioggia e la terra quindi quale carte ribadiscono che dovete riequilibrarvi qua c'è una perdita di equilibrio di energie di proprio vibrazione vibrate alte state serene cercate il vostro equilibrio interiore il consiglio esprimi il tuo amore vai avanti così e compri un gesto romantico quindi qui le carte vi invitano sia a non proteggervi così quindi non chiudetevi per paura di soffrire aprite esprimete i vostri sentimenti siate romantiche romantici dite quello che sentite che provate non abbiate timore però contestualmente le carte vi invitano anche a accettare l'espressione d'amore dell'altra persona quindi non chiudete la porta non chiudete il cuore perché magari questa persona si sta comportando in un determinato modo ma qui ha bisogno di risolvere delle questioni mi sono dimenticata di tirare fuori le carte e vorrei dirti che ma rimediamo adesso vediamo che cosa vi dice la variante 2 sei importante per me ho le mani legate quindi questa persona probabilmente deve ancora staccarsi da una relazione anche se ha intenzione di farlo la variante 2 che cosa vi dice questa persona ho paura di contattarti guardate un po' le difese alte che ci sono qui voglio essere più di un amico per te ti ho mentito ti sogno in fondo al mazzo quindi qui vediamo proprio una persona che si sente legato a voi sente che siete importanti ha paura di comunicare con voi ma abbiamo visto che ha le difese alte questa persona sente di doversi in qualche modo proteggere ha paura di compiere un passo o perché deve ancora chiudere una relazione o perché forse vede il vostro atteggiamento un po' schivo voglio essere più di un amico per te quindi questa persona vorrebbe una relazione vorrebbe darvi amore vorrebbe stare con voi ti ho mentito forse qui potrebbe avervi raccontato non essere stato completamente sincero sul suo matrimonio sulla situazione o sul fatto magari che non prova dei sentimenti che non vi vuole qui naturalmente potrebbero essere tante situazioni dovete poi dirmi voi nei commenti che cosa effettivamente cosa riguarda questa menzogna allora andiamo a vedere gli oracoli scusate sindi zodiacali per la variante verde qui abbiamo la bilancia attimamente esce sempre abbiamo il leone il sagittario la riete e l'acquario quindi qui abbiamo la bilancia l'acquario i due sogni d'aria e poi il leone sagittario e ariete abbiamo tutti i segni di fuoco va bene variante 2 io vi ringrazio per aver seguito il video mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina vi ricordo che mi potete contattare via whatsapp al 371 636 0228 oppure via mail a tarot taitarot chiocciola gmail.com per chiedere informazioni sui consulti privati ricordo che faccio vari tipi di consulti e quindi se mi iscrivete io vi mando tutti i servizi che svolgo vi auguro una buona serata e vi aspetto domani con una nuova canalizzazione buonanotte a tutti